Musica Ci siamo, sta per partire la Corsa Rosa dall'Abruzzo, seconda volta che la Corsa Rosa, ovvero il Giro d'Italia. Parte dalla nostra regione, ben ritrovati amici non solo calcio negli studi di la QTV e del capoluogo, ben ritrovati appunto con un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione che vi parla sempre di sport a 360 gradi questa volta. Vista la vicinanza appunto della partenza del Giro d'Italia che partirà dalla costa dei Trabocchi, non potevamo non parlare appunto della Corsa Rosa per eccellenza. E chi è in studio con noi? Chiaramente la nostra esperta di ciclismo del territorio, Aquilana chiaramente, ma insomma mi piace anche ricordare le radici di Castelvecchio Calvisio perché le radici vanno sempre ricordate e onorate. Alessandra De Torre, bentornata. Grazie, grazie. Felicissima sempre di essere qua con te e di parlare di una cosa bella. Di una cosa bella, Alessandra De Torre, campionessa mondiale Juniors 96, europea under 23 nel 2000, io ricordo sempre appunto due tappe della tua vita, due delle tantissime tappe della tua vita. Diciamo quelle che spiccano giustamente. Quelle che spiccano, eravamo stati qui a parlare appunto negli studi non solo calcio, a gennaio era stato presentato diciamo da poco il Giro d'Italia del 2023, la 106esima edizione del Giro d'Italia. Sei tornata, peraltro in buona compagnia, lo vediamo dal tuo pancino. Siamo in due, no? Esatto, siete in due, quindi oggi due ospiti. Come mi hai definito tu la donna delle sorprese. Assolutamente sì, quindi ecco. Non mi fermo mai. Ma ti puoi fermare mai tu che hai raggiunto delle vette incredibili? Assolutamente no. Impossibile, impossibile. E quindi si va avanti e si va avanti con nuove sfide, nuove vette come quelle appunto del Giro d'Italia che ci aspetta. Allora, c'è tantissima attesa, c'è tantissima attesa in Abruzzo per questa partenza, i preparativi sono in corso già da diverse settimane, c'è l'appello dei sindaci delle zone, soprattutto per quanto riguarda i comuni che verranno toccati dalla prima tappa, a voler bene alla città, quindi insomma comincia a sentirsi l'atmosfera. Quando arriva il Giro d'Italia si sente, cioè c'è poco da fare, i preparativi sono tanti, ci stiamo diciamo così preparando tutti perché quando passa il Giro quella maglia rosa piace a tutti quanti. E a maggior ragione la partenza, quindi tutta la nostra costa dei Trabocchi, ma tutto l'Abruzzo si sta preparando a ricevere tutta la carovana, che sicuramente verrà qualche giorno prima, quindi sarà bello anche provare ad andare a vedere i propri campi, a curiosare, a farsi fare un autografo da questi grandi campioni che insomma ci emozionano sempre. Decisamente sì, allora andiamo a vedere un po' quali saranno le prime tappe, l'abbiamo detto, la partenza dalla costa dei Trabocchi, la prima tappa, forse c'è Marina Ortona, una crono di 18 chilometri, il panorama già vale. Il panorama ci dice tutto penso, già basta così? Già basta così per dare diciamo un benvenuto in Abruzzo ai tanti ciclisti che parteciperanno appunto alla Corsa Rosa per questa centosesima edizione del Giro d'Italia, la riva d'Urtona. La seconda tappa, Teramo-Sansalvo, quindi si tocca un'altra provincia, quindi quella di Teramo, scendendo verso la costa appunto della provincia di Chieti, al confine con il Molise, una tappa anche questa, insomma 200 chilometri, abbastanza pianeggiante. Esatto. Poi da Vasto, quindi un po' prima diciamo di San Salvo, si arriva a Melfi per la terza tappa e questa diciamo è l'ultima... È la prima parte del giro. Diciamo per scaldare un po' i motori, si arriva quindi fino a Melfi, c'è qualche saliscendi, ma insomma... Tappe abbastanza tranquille. Sì, interlocutore diciamo, poi dopo di questa si arriverà in Campania con una bellissima tappa con Napoli protagonista, quella sarà una tappa, pensiamo, veramente molto carica. Sono calorosi anche i napoletani, quindi sarà bello vedere anche la tappa giù. Per poi arrivare dal calore, dal calore dei napoletani arrivare alla neve di Campania. Il calore, quindi ecco hai detto benissimo tu, adesso veramente un po' di freddo e di neve, però diciamo che la situazione è sotto controllo, perché all'inizio... Nonostante i muri di neve che, insomma, è possibile ci sia. Questi social hanno un attimino un po' infangato questa cosa, perché hanno già detto ma forse salta la tappa. Tranquilli, la tappa non salta. Nonostante i muri di neve. Da fonti sicure, da fonti sicure. Quindi tutti gli enti competenti sicuramente mancano ancora vari giorni. Quindi abbiamo tempo, diciamo, di togliere tutto. E poi sarà ancora più bello, perché con la neve renderà l'emozione di Campo Imperatore. Assolutamente sì. Qualche giorno fa ne parlava anche Luigi Faccia. Diciamo che Campo Imperatore, il Gran Sasso, è andata spesso anche sui network nazionali, proprio per la grande quantità di neve. Peraltro in contrapposizione con le Alpi. Insomma, al nord c'è tanta siccità, ci sono tanti problemi appunto legati alle precipitazioni. Qui in Abruzzo, sul Gran Sasso, di problemi da questo punto di vista non ce ne sono. E, insomma, l'invito era quello di venirci a trovare, venire a trovare noi che siamo in Abruzzo, proprio perché per la bellezza del territorio. Per la bellezza del territorio. Per i tanti panorami che possiamo far vedere dalla costa dei Rabbocchi. Che sicuramente farà caldo, quindi lì passeremo da una temperatura abbastanza. per poi arrivare alla temperatura di Campo Imperatore, che a maggio non è detto che siano poi così gradevoli. Quindi i corridori si dovranno preparare anche a questo sbalzo termico. 2.135 di Campo Imperatore. E' peraltro il primo arrivo sopra i 2.000 di questo Giro d'Italia. Ed è un arrivo che, ne parlavamo anche qualche settimana fa, potrà già cominciare a fare selezione. Sì, capire delle cose, esatto. Perché la salita, per carità, non è solo quella di Campo Imperatore, ma c'è tutta la salita della colonia Frasca. Quindi si arriverà a Calascio, poi ci sarà la salita di Santo Stefano di Sessanio, anche lì comunque chilometri di salita, per poi prendere la salita finale, la salita Pantani, dove ci porterà su all'osservatorio. E insomma, chilometri da giù fino a su sono un bel po'. Tu le conosci bene quelle strade. Io abito a Castelvecchio, quindi è impossibile non conoscerlo. Io voglio fare il tifo per gli italiani, poi per carità mi piacciono anche il resto, perché insomma è impossibile non innamorarsi di un Van der Poel, di un Evenepoel. Cioè, sono dei corridori pazzeschi. Però, un po' il tricolore diciamo, lo portiamo avanti. Prima è il tricolore, poi viene tutto il resto. Peraltro parlavamo prima del fatto che la tappa di Campoimperatore vorrebbe già farci capire chi ha la gamba e chi no. Nel 2021 e nel 2022 a me fa piacere ricordare questo, chi ha vinto la tappa con l'arrivo sulle nostre montagne e poi dopo ha vinto il giro. Quindi parliamo di Bernal, parliamo di Inley, perché anche sul Blockhouse, una bella salita insomma. Quindi le salite abruzzesi un po' tagliano. Dicono sempre tantissimo, per carità stiamo ancora alla prima parte del giro, quindi è difficile già dire il vincitore, però già ci fa dire chi è che questo giro lo perderà. Mi hai messo una curiosità, perché prima hai detto, passiamo dalla costa dei Trabocchi, dove sicuramente le temperature, chiaramente insomma, sono più miti, a Campoimperatore nel giro di nemmeno una settimana. Esatto. Come vive un ciclista a uno sbalzo di temperatura simile? Allora, ci sono ciclisti che sicuramente si adattano molto bene a queste variazioni, casomai soffrono anche poco, diciamo così. Invece ciclisti che se capita una giornata un po' no, la temperatura sicuramente ti influenza tantissimo. e la vita del ciclista è questa, cioè tu devi improvvisare, casomai parti con il sole a 30 gradi, all'arrivo pioggia, neve con 5 gradi, però devi pedalare, perché domani devi ripartire, quindi vai, devi andare per forza. E il ricordo va ai campioni di altri tempi, quando magari le persone, il pubblico, gli passava i fogli di giornale, se li mettevano addosso per evitare insomma il vento, comunque per cercare di tamponare un po'. Anche io questa esperienza l'ho avuta del giornale, perché alcune volte capitava che quando tu arrivavi in cima ad un colle, a una montagna, non c'era la tua ammiraglia, oppure il tuo direttore sportivo, oppure ecco il tuo massaggiatore che ti poteva dare il giornale. E allora si improvvisava, quindi comunque c'erano i giornali, oppure le buste, anche le buste, quindi ti mettevi la tua busta. Per isolare chiaramente. E certo, almeno il primo impatto con l'aria fredda, tu almeno era un po' riparato. Poi è questo. Il ciclista si adatta. Il ciclista è questo. Adesso per carità il ciclismo è molto diverso, sta cambiando tutto, quindi sicuramente in cima c'è sempre il tuo massaggiatore, c'è sempre qualcuno dello staff, però può capitare che non c'è, quindi ti devi arrangiare. Ti devi arrangiare e ti devi adattare. Una bellissima vetrina per l'Abruzzo questa. Questa sì. Questa partenza, devo essere sincera, io lo mezzo sapevo, però mi pareva veramente un sogno, mi sembrava un sogno. Quando invece poi hanno ufficializzato tutto, ho detto che è un bel lavoro, questo è venuto veramente un bel lavoro, anche perché appunto quando passa il giro, non è solo il giro di per sé, è tutta la ruota che c'è intorno, è tutta la carovana che poi porta nella regione tanta visibilità. Queste immagini andranno in mondo visione, quindi sarà bello che i nostri compaesani, che i nostri amici che vivono all'estero rivedano le località, ma anche persone che vogliono venire da noi, quindi invogliare le persone. Certo, l'incambio, il turismo, insomma anche un tipo di turismo differente da quello che si può avere in altre parti. Sport e turismo vanno di comune accordo, e il ciclismo è uno sport che promuove il turismo, quindi è uno degli sport per eccellenza, che ha questa magia. Al tempo stesso il ciclismo nazionale però punta e guarda all'Abruzzo, perché anche tu sei stata nominata, hai avuto una nomina importante da questo punto di vista da parte della federazione. Sì, in realtà è successo proprio il periodo di Natale, sono stata contattata dalla federazione e mi hanno detto che, ti ripeto, non me l'aspettavo perché ho già smesso da nove anni, quindi vivo in Abruzzo, poi ecco io adesso lavoro, ho due bimbi, il terzo in arrivo, quindi comunque ho la mia vita. Mi hanno chiamato dicendomi Ali abbiamo bisogno di te, perché vogliamo delle idee, vogliamo inserirti nella struttura tecnica e poi tu che sei sul territorio, ho detto sul territorio, ma io sto in Abruzzo, io non è che sto in Lombardia, in Veneto, in Trentino, quindi vuol dire che anche la federazione considera l'Abruzzo come una regione di ciclismo, di ciclisti, e lì mi sono anche abbastanza convinta quanto appunto mi hanno detto tu che sei di giù, ho detto ma allora vuol dire che non siamo proprio isolati. Siamo terra di ciclismo, è un ciclismo importante insomma. Esatto, quindi ho detto perché no, dai ci provo anche perché in fondo io mi sono buttata dentro, ma fondamentalmente ci sono sempre stata, al mio paese organizzo delle gare dei bambini, come ricordavamo l'altra volta, vado anche abbastanza nelle scuole per la sicurezza stradale, quindi comunque nell'ambito ciclistico ci sono sempre stata, e ho detto con la federazione posso rafforzare questo mio ruolo, e infatti già diciamo ci sto dentro, già ci sentiamo ovviamente con i social, con i pc vari, stando un po' lontano, non ho la possibilità. Insomma c'è una bella collaborazione in corso che porterà anche a degli sviluppi, poi insomma ciclismo, tu dici ciclismo sul territorio, quindi diciamo esaltato il ruolo dell'Abruzzo, ciclismo femminile ancora di più, quindi diciamo sono due piani importanti sui quali portare. Sì, importanti, infatti ecco mi hanno messo appunto nell'ambito femminile, mi hanno detto metti a disposizione la tua esperienza, quindi eccomi qua, eccomi qua ci sono, cosa devo proporre, che in realtà Eleonora, io già ho proposto una bella cosa, però non vi posso dire, perché poi non mantenere le propense non mi piace, e allora o adesso mai più mi sono detta, quindi posso proporre una cosa, adesso ho la possibilità di farlo, la federazione mi ha anche abbastanza appoggiato e vediamo se andrà a buon fine. Va bene, e in caso noi chiaramente ne daremo notizie. Saremo i primi a dare notizie. Saremo i primi a sapere, sicuro? Senti, prima parlavi di sicurezza sulle strade, quando qualche tempo fa sei stata ospite nostra, abbiamo ricordato insieme Davide Rebellin, che il 30 novembre era scomparso, insomma in seguito a un incidente stradale, proprio mentre si stava allenando, tra l'altro si era ritirato da un mese, aveva chiuso la sua carriera. Aveva chiuso la carriera veramente da poco. Allora a questo punto io ti vorrei fare una sorta di, non gioco, però insomma ti volevo fare delle domande da utente della strada, perché spesso, questo è il periodo in cui cominciamo a vedere, magari lungo le statali, attorno all'Aquila, diciamo attorno al nostro territorio, cominciamo a vedere più ciclisti. Allora, guardiamo le cose dal punto di vista dei ciclisti e guardiamo le cose dal punto di vista degli automobilisti o comunque di chi guida mezzi a quattro ruote. Allora, spesso vediamo ciclisti in mezzo alla strada o che si allungano, diciamo, si allargano. Si mettono uno di fianchi all'altro. Allora, qual è il comportamento che dovrebbero tenere i ciclisti lungo la strada? Sicuramente mettersi uno vicino l'altro non va bene. Io ti dico che l'abbiamo sempre fatto, perché quando facevamo allenamento ci mettevamo uno vicino all'altro e tante volte, ecco, o si chiacchierava o si scambiava una parola. Però, quando vedi una macchina che sta dietro, tu ti metti in fila indiana, diciamo, ti metti in fila indiana e permetti giustamente alla macchina, all'automezzo, di farlo passare. Ok. E quindi, in realtà, si dovrebbe andare uno dietro l'altro, quindi cercando di stare, ovviamente, un attimino spostato dal ciglio, altrimenti vai fuori strada. oppure prendi il brecciolino, quindi... Io dico che alcune volte sbagliamo dalla parte del ciclistismo. Alcune volte, però, anche l'automobilista... Assolutamente. ...è molto frettoloso. La prima cosa che fanno, suonano. Esatto. Io ti volevo chiedere questo. Guardiamola dal punto di vista dell'automobilista. Allora, lo sappiamo che per superare va garantita una sorta di metratura, due metri e mezzo si parla. Un metro e mezzo, dicono. E per quello. Assolutamente sì. E però, tu dici, spesso c'è fretta, e quindi uno si mette dietro al ciclista e comincia a suonare. Esatto. Ti mettono quest'ansia, questo stress che ti suonano. Ma alcune volte, anche se si sta normalmente in fila indiana, è che c'è proprio il vizio di... Ecco, vedi un ciclista, suoni, oppure gli devi passare a tutta, oppure ecco, la fretta subito di sorpassarlo. Casomai c'è una curva, aspetta un attimo e poi sorpassi. Quindi non do sempre ragione al ciclista. Assolutamente no. Però alcune volte tu vedi che il ciclista sta sbagliando, aspetta un attimo. Non è una ragione valida quella di buttarlo giù, per esempio. Quindi da una parte non si suona e si deve lasciare lo spazio, chiaramente, il spazio di manovra, e dall'altra parte, insomma, cerchiamo di essere... Coscienziosi. In fila indiana e coscienziosi da tutte e due le parti, soprattutto senza avere distrazioni, perché purtroppo lo sappiamo che... Che la distrazione è la causa fondamentale per queste disgrazie. Ci mettiamo anche che non abbiamo le piste ciclabili e quello è un nostro grande handicap, sicuramente. Culturale anche. Esatto, esatto, culturale. Però, ripeto, dobbiamo cercare sempre il giusto equilibrio. Quando vedi che una persona sbaglia, allora non sbagliare anche tu. Frena e dai la possibilità, ecco, al ciclista, o di passare o di aumentare la velocità e quindi di mettersi in fila indiana. Per carità, io dico sempre che è un tabù che non so se si risolverà, no? La fondazione Michele Scarponi sta appunto lottando per questo e di creare, ha portato in Parlamento appunto questa legge del metro e mezzo. Io sono la prima ad essere favorevole, giustamente, però sarà molto dura. Come dicevi tu, non c'è cultura in Italia. Non c'è cultura in Italia. Poi lo ricordavamo, anche la scorsa volta di essere stata ospite, tante squadre si vanno ad allenare ormai in altri paesi. All'estero, sì. Dove c'è più cultura, cioè non vanno più in Toscana, dove si facevano tutti i raduni, eccetera. Esatto, noi andavamo tutti in Toscana. Io mi ricordo che quando andavamo in Toscana o con la squadra, con la nazionale, c'erano tutte le squadre, tutti gli stranieri. Adesso qui in Italia non viene più nessuno perché si rischia troppo e questi grandi squadri non possono rischiare così. Assolutamente, quindi maggiore coscienza sulle strade per se stessi e per gli altri, soprattutto. Allora, grazie Alessandra. Io veramente ti ringrazio per aver fatto questa panoramica ampia sul Giro d'Italia. Chiaramente poi insomma commenteremo cosa sarà successo sulle nostre strade e sarà anche molto emozionante. Vedremo le immagini poi, quindi sarà bello poi... Tu andrai a Campoimperatore? Allora... Prevediamo, ci proviamo. Ci proviamo. Io andrei anche in bicicletta, quindi figurati tu, non me la... Allora, sicuramente la prima tappa sarò lì. A Campoimperatore spero di esserci, tempo permettendo, insomma, situazione permettendo. E male male che va, me la vedo vicino al paese. Tanto passano lì, Calascio, Colonia Frasca. Che poi quanto è bello quando il Giro passa sotto casa, è fantastico. Bellissimo. Veri i bambini lungo le curve che aspetta. Sì, già porterò i miei figli, quindi andremo con i bambini del paese e ci inventeremo qualcosa per... La grande festa del Giro. Per salutare i nostri girini, sì. Grazie, Alessandra De Torre, campionessa mondiale Junior S96 Europea, Under 20 del 2000. Grazie ancora. Grazie a voi, sempre un piacere essere qui. È assolutamente un piacere per me averti ospite, anche perché con te veramente si possono affrontare tantissimi argomenti. Anche, chiaramente ne abbiamo parlato, anche di vita reale. Esatto, soprattutto. Quando incontriamo i ciclisti per la strada sappiamo come doverci comportare, soprattutto. Grazie Alessandra. Grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa puntata di Non Solo Calcio e vi do l'appuntamento alla prossima. Grazie a tutti.